Musica Musica Aspetta Oh Che i gusti Non basta La famiglia Bravo Luciano possiamo andare Guarda Ma che capo fai, Luciano? Servio Sembra che gli equipaggi siano ancora a pari erito, c'è una sincronia facciosa come potete vedere sui reni L'equipaggio numero uno di Vittoria Moretti, Marta Meda, Sara Vitali o Marta Radice Sarri e Fabio Andero Che tagliano ora il traguardo in mezzo a questo strepitoso applauso di questa spiaggia Luciano Dentone, Massimo Scaggia Frate, Luciano si sta tenendo i pantaloni, è da 5 stacca Lo sappiamo cosa sta combinando Inizio il destro per il spendere Dov'è a 15 euro? Inizio uomo Luciano Valentin Sempre in i nostri cuori. Aspettacolari come al solito. Sicuramente riferesse. Che ci fa servire, qui, è il guerra pezzi di scena, che sta faticchendo questa batteria di politizia, un rialtante annusione di balanci. Pertanze di bada. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Sì.